Un investimento epocale, quando abbiamo deciso di mettere mano a Sacra, acquisendo la proprietà, lo abbiamo fatto perché ritenevamo che gli aeroporti dovessero costituire un asset strategico per lo sviluppo della regione e oggi lo dimostriamo con questo importante contratto interistituzionale di sviluppo, 215 milioni per rifare tutti e tre gli aeroporti calabresi che oggi sono in una situazione di assoluto degrado in una regione che invece si candida ad essere una delle principali mete turistiche del Mezzogiorno. A questi 215 milioni vanno aggiunti altri 40 milioni che investiremo per rendere più attrattivo venire in Calabria, quindi incentivi alle compagnie aeree per volare in Calabria. A questi altri 40 milioni si aggiungono quelli già impegnati per legare sugli oneri di servizio, sul Reggio e su Crotone dove ci sono complessivamente altri 28 milioni già stanziati che servono a mettere tratte aeree in aeroporti dove altrimenti a mercato sarebbe difficile ottenerle, quindi a Crotone e a Reggio Calabria. Quindi un grande, epocale intervento per lo sviluppo degli scali aeroportuali ma un intervento per lo sviluppo della Calabria. Il commissario della Sacale, che è stato bravissimo perché senza di lui questo intervento non sarebbe stato possibile, sa che o li realizzerà entro 24 mesi o sarà sostituito, questo è l'obiettivo che gli ho dato e quindi suppongo che entro 24 mesi avremo tutti e tre gli aeroporti nuovi. Una regione come la nostra che deve essere percepita come una meta turistica importante perché a mare, montagne, a giacimenti culturali non può avere gli aeroporti che i calabresi e i turisti sono costretti a vedere. È vero che è una regione che ha tre aeroporti più del Lazio. Ha alcuni aeroporti che è difficile rendere economicamente sostenibili come quello di Crotone o come quello di Reggio, però anche per questi aeroporti stiamo lavorando perché fin tanto che non avremo in Calabria la dotazione infrastrutturale necessaria per rispondere ai bisogni di mobilità va comunque potenziato l'intervento sugli aeroporti. Quindi questo investimento è un investimento che va nella direzione di rendere più vicina la Calabria sia ai centri commerciali più importanti sia per i turisti. Spero che per la prossima istante l'aeroporto di Lamezia sia parzialmente più decoroso, la stessa cosa anche per Reggio e su Crotone che ci sia più attività. Quello che dobbiamo portare è un incoming di maggiore qualità sul territorio calabrese perché abbiamo un profilo del turista che arriva poco altospendente. Dobbiamo capire come elevare un discorso di qualità andando a enfatizzare aspetti peculiari della Calabria sotto la biodiversità, per la qualità delle acque, del mare, insomma tutta una serie di attività che già sta facendo la Regione ma dobbiamo insieme migliorare ancora di più. Sono livelli di safety che vanno implementati, che vanno migliorati. Dobbiamo cambiare le luci bordo pista con luci a LED, dobbiamo migliorare l'efficientamento energetico ma l'aspetto della safety è assolutamente. Quello è, come dicevo prima, è bovol, quindi prima la safety, poi tutto il resto. Nella classifica nazionale siamo più o meno nelle ultime posizioni quindi dobbiamo assolutamente immaginare di ribaltare questa condizione e lo dobbiamo fare con il concorso di tutti. Ecco, io, come dicevo prima, faccio parte di questa squadra. Dobbiamo farlo insieme con il miglioramento degli aspetti ricettivi, con il miglioramento degli aspetti di formazione, con il miglioramento degli aspetti ambientali. Però l'impegno da parte nostra c'è tutto e credo che cominceremo a breve proprio con un incontro anche attrattivo con vettori, tour operator e compagniere e soprattutto per riuscire a intervenire in quei gangli decisionali del turismo che sono i motori di ricerca, che sono fondamentali per riuscire a vincere in questo settore. La cosa straordinaria che succede oggi è che si individua l'aeroporto come un volano di sviluppo ma è tutto il resto che poi insieme con questo può concorrere veramente al miglioramento di questi standard attraverso i quali la Calabria non è molto conosciuta, diciamo così. Grazie